Icora, rilevo tracce di oscurità familiari, lo stesso tipo di energia che emanano le piramidi. Gli occulti riferiscono di tecnologia della piramide introdotta nel trono mondo dagli infami, probabilmente per conto del testimone. Fate attenzione, ma vedete di scoprire il più possibile. Agli ordini. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.